Peiji Qigong è fatto dal professor Zhang Xu Guang dell'Università Weimau di Pechino è una tecnica certificata e quindi ha un valore nazionale Per studiare i fondamenti del Tai Chi Quan E anche utile per migliorare la qualità dei massaggiatori Si serve a capire dove dobbiamo sviluppare la forza nei nostri movimenti E come poter approvvigionarci dell'energia del cielo e della terra Per studiare la forza nei nostri movimenti del Tai Chi Quan Imparare a conoscere dove dobbiamo rilassarci serve a capire come fare a rilassare i muscoli e anche gli organi interni Primo movimento Lo stato di Wu Ji Di yin yang indistinto Il corpo è retto immagino di avere un cavo attaccato alla sommità del cavo e solleva anche la zona sacrale della corona Due inguini sono svuotati Le gambe sono ben fissate a terra La mente è rilassata Il cervello è rilassato La respirazione è regolare Ora, rilassare il suoi Inizio A iniziare Lavorando le gambe Per esempio Imagino che all'altezza del primo punto del polmone ci siano due robinette. Quando le mani sono chiuse, i robinetti sono pure chiuse. Sento che sono al centro del cielo e della terra. Adesso i due robinetti si aprono, l'acqua comincia a fluire attraverso la spalla, il gomito e i polsi, arriva fino alle dita. E poi di nuovo si chiudono, il flusso pian piano si interrompe. Apro e chiudo tre volte. Il secondo. Apro, divare collegando e abbraccio una sfera. Il movimento è guidato dai pollici, dalla parte terminale del meridiano del polmone. Immagino di spingere verso terra due grossi palloni. La spinta sui palloni mi permette di risalire. Di nuovo. Terzo. Aprire, chiudere e abbracciare la sfera. Immagino che il mio corpo sia altissimo, che le braccia arrivino molto lontano. Raccolgo energia, abbraccio tre sfere, una davanti a me e altre due poste sotto le ascelle. Poi le mani cadono. E stendo il punto yanch del trepoliscaldatore sul centro del polso. Vado giù. Poi di nuovo mi spingo sui palloni. Quarto. Posizione di rotazione a destra e a sinistra. L'asse di rotazione è costituito dalla colonna. Ora ruoto verso destra. Immagino che tutto quello che c'è nella parte destra del corpo, esternamente intermanente, quindi i muscoli e gli organi interni, si rilassi e ho l'impressione che scompaia, che venga risucchiato da un punto posto sotto la pianta del piede che entri tutto dentro il cerchio. Poi faccio di nuovo scivolare la mano e ritorno dalla posizione di partenza. La stessa cosa dall'altra parte. Porto il dorso della mano a contatto della regione lombare, in modo da allineare il punto laugung esterno con il quarto punto del vasogovernatore. Poi di nuovo scivolo e torno. Sì, grazie. Questi sono i 4 esercizi. Grazie. Grazie. Grazie.